Noi eravamo perché i GAP erano organizzati non più di tre, cioè tre sapevano dei tre e non oltre. Allo scopo che se venivano presi, purtroppo si sapeva che a Villa Cucchi torturavano, come hanno torturato Paolo Davogli, ha torturato Latina di Cavriago, la Rosina, purtroppo si sapeva allora, si creavano i GAP e avevano preso questo provvedimento, cioè Zanti, Maurizio a nome di battaglia, aveva organizzato il senso di non fare un gruppo, non oltre il gruppetto di tre. Poi con l'andare del tempo si formavano, si riunivano e si facevano le azioni combinate. Gruppi armati, partigiani che non hanno niente a che fare, perché non erano tutti comunisti. Io lo ero nel senso che il gruppetto eravamo tutti compagni...